Il luogo di pratica è importantissimo, addirittura sacro, si può dire nella tradizione. Questa sala direi che è ottimale, ampia, spaziosa, luminosa e soprattutto riparata dai suoni aggressivi della città. Siamo sui navigli e anche calda, siamo in inverno e anche calda perché si sta molto bene. Il luogo di pratica è fondamentale per aumentare la concentrazione.